Nel nuovo consiglio regionale a guida centrodestra che presto prenderà il viace solo un consigliere della città di Teramo, eletto tra le file di 5 stelle. Una città che ha perso diversi esponenti che però, come annunciato dal centro-sinistra, è una questione che deve servire a far riflettere. Sui commenti post-elezione è intervenuto anche l'ex assessore Giorgio D'Ignazio, che ha voluto fare in primis l'imbocca al lupo al nuovo presidente Marsilio, ma anche ringraziare tutti i candidati che hanno preso parte a questa breve ma intensa campagna elettorale. Il mio ringraziamento va a un esercito di candidati di qualsiasi colore politico che sia impegnata, quindi veramente questa è la riflessione che mi viene oggi da fare e soprattutto speriamo che vada meglio per la regione Abruzzo perché merita veramente di uscire da questa crisi e della nostra città che non ha eletto nessun consiglio regionale, ad eccezione di Marco Cipolletti e Cinque Stelle, cioè la città di Teramo che passa da una maggioranza in consiglio regionale, oggi non ha rappresentanza e questa è una base che deve porre una riflessione. Mi sembra che adesso stiamo facendo il riconteggio delle schede, ma è sempre stato così, è un sistema particolare quello delle elezioni, per cui bisognerà attendere qualche giorno perché il Ministero degli Interni non è quello che fa poi la Corte d'Appello, quello che nomina il Consiglio, spero non ci siano modifiche, però è ancora subiudice in termini generali, non la vittoria del centrodestra ovviamente. Parliamo magari dei singoli consiglieri, ci può essere qualche aggiustamento. Il Presidente Regnini ricordava che era particolare che il Cinque Stelle, pur avendo ottenuto meno voti, prende due consiglieri in più rispetto al centro-sinistra, ma è una legge fatta male, non me ne voglia il collega e amico Sospiri, è veramente una legge che non sta in piedi questa legge elettorale.